Chissà come l'ha presa Blair, non mi ha più scritto dopo quell'articolo, è stata molto delusa che non ho scritto io quella poesia. Oh, permesso, Blair, ciao, che piacere averti qui, Sara è nella sua stanza, vai pure da lei. Eh, ok, grazie. Sara, posso parlarti un attimo? Ah, Blair, ma da dove sei entrata? Mi ha fatto entrare tua madre. Beh, comunque, che cosa vuoi? No, ecco, cioè, ma davvero non hai scritto tu quella poesia e l'ha scritta Carola? Sì, sei arrabbiata con me perché non te l'ho detto. No, mi fa piacere, hai preferito prima scoprire chi mi l'ha scritta e poi l'hai fatto pubblicare a Giulia. Sì, mi sembrava la cosa più corretta, lo penso anch'io. Davvero, quindi non mi vuoi lasciare? Ma certo che no. Dai, adesso andiamo a divertirci. Ok, noi usciamo, mamma. Ok, ciao. Oh, cavolo, devo andare subito a casa, mia madre mi sgrida. Oh, c'è Carola. Dovrei andare a parlargli. Eh, ok, sì. Ciao, Carola. Vattene via, Giulia, non voglio vederti. Senti, so, adesso ce l'hai con me, ma non è vero, insomma. Blair, prima o poi avrebbe dovuto sapere che hai scritto tu quella poesia per lei. Sì, lo so, ma non in questo modo. Comunque non è servito a niente. Adesso è ancora più innamorata di Sara e non mi rimetterò mai con lei. Posso sedermi. Tanto lo farai comunque, perciò vieni. Senti, so che adesso hai il cuore a pezzi. Ma devi accettarlo. Blair, non ti ama più. Ama un'altra persona. Wow, che bel consolamento. Dai, sono sicura che un giorno o l'altro troverai la tua anima gemella. Certo, come no. Andiamo, dai. Adesso io sono singole. Insomma, sono sempre stata bene. Coraggio, dai. Se continui a correrle dietro, non ti permetti di conoscere nuove persone, di trovarti un nuovo ragazzo o ragazza, non so. Cioè, penso che ti piacciono le ragazze. Ok. O magari, insomma, tu non hai degli amici? No. Magari è anche per questo che sei triste. Sai che ti dico? Cosa? Perché non diventiamo io e te amiche? Sul serio? Certo, insomma, insomma, solo perché hai fatto quelle cose a Blair e così non significa... Cioè, non sei una cattiva persona. Hai fatto solo perché soffri d'amore. Accetti? Beh, non lo so. Ci penserò. Comunque, adesso vado a casa. Grazie di tutto. Prego e ciao. Io dovevo fare qualcosa. Ah, già? Anch'io devo andare a casa. A casa di Argentina e Danny? Allora, ragazzi, come siete con le valigie? Mi raccomando, portate il meno possibile. La macchina non deve essere tanto pesante. Già, è un viaggio lungo. Io ho quasi finito le mie. Anch'io le mie, ma tanto non possiamo ancora partire. Dobbiamo aspettare i nostri amici. Ah, già. Ma perché accetto sempre di portare anche i loro amici in vacanza con noi? Ding dong. Devono essere loro. Tesoro, vai ad aprire. Ciao, ragazzi. Salve, signora. Siamo pronti per andare in vacanza. Già, e grazie per averci invitato. Di nulla. Ma dove sono le vostre valigie? Ah, le abbiamo lasciate sotto, già vicino all'auto. Già, così non dobbiamo portarle su e giù inutilmente. Già, perché sono molto pesanti. E sono tante. Sono tante e pesanti. Adesso arrivano a Argentina i degni, eh. Io arrivo subito. Allora, dobbiamo cercare di fare entrare più roba possibile, perché loro hanno tante valigie e pesanti. Ma è finora che spingono. La roba non vuole entrare. Beh, spingila di più. Anche voi, ragazzi, dovete fare entrare più roba possibile, non più di due valigie. Dovete spingere tanto e andate fuori ad accogliere i vostri amici. Io devo, anch'io, spingere la roba nelle mie valigie. Io ho spinto più che potere. Anch'io, e ho portato meno roba possibile. Andiamo fuori. Ok. Poco, è a parlare. Poi partiamo. Sì. Ciao, ragazzi. Ciao, Danny. Ciao, Argentina. Pronti? A partire? Io non vedo l'ora. Già, anch'io mi devo rilassare tantissimo. Soprattutto dopo quello che è successo. Già, certo. Ma, beh, allora che ne dici? Iniziamo a portare giù le nostre valigie? Eh, sì, mi sembra un'ottima idea, ragazzi. Ok, allora prendiamo le nostre valigie. E voi aspettateci lì, poi andiamo giù insieme. Ok. Bene, ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Avete notato qualcosa? Sì, allora. Summer Girl ha finalmente comprato un nuovo pacchetto di arredamento che comprende tanti posti e questa casa con i suoi arredamenti. Già, finalmente ho comprato una carta regalo. Scusate se ci ho messo tanto. Finora ho fatto solo con gli oggetti e i posti che mi dava tocca. Ma, insomma, è una lunga storia. Vabbè, comunque. Allora, adesso loro stanno per partire andando in vacanza. E con loro verranno Betty, Alex, Blair e Viola. Beh, allora ci vediamo direttamente in spiaggia. Ciao, un bacione e un abbraccio.